perché la salita dei giganti perché questo titolo i giganti sostanzialmente sono quelli che il papà di questa bambina che poi diventerà una ragazza e poi diventerà una donna la protagonista di questa storia racconta come le montagne che sono sopra la loro testa come le montagne ai piedi delle quali sono sono cresciuti sono vissuti come le montagne che i menabre hanno attraversato nel corso degli anni per commerciare con la svizzera questa è la storia di questa famiglia e questi giganti sono i 4.000 sostanzialmente le grandi montagne del monte rosa che comunque sono diverse sono diverse diverse montagne diverse cime che superano i 4.000 che dal paese di gressonei che è una delle location sostanzialmente di questa storia insieme a biella dominano l'orizzonte ma i giganti sono anche menabrea perché i menabrea ci sostanzialmente vedono al di là la cosa interessante che succede che a un certo punto ci sono quattro donne cioè c'è una madre con tre bambine la più grande ha una decina d'anni l'altra ne ha sette otto cinque che devono gestire questa questa fabbrica questa attività che è stata portata avanti da due uomini ma che in qualche modo adesso è nelle loro mani buon senso visto che siamo nella seconda metà dell'ottocento direbbe che mamma vende tutto lascia tutto a qualcun altro e si godono sostanzialmente i soldi o si godono il risultato del lavoro del del marito e di questi queste due figure di riferimento maschili e invece no nonostante potesse mollare tutto questa madre decide che devono andare avanti loro con una determinazione cieca va addirittura a incontrare i vari compratori vari clienti i vari fornitori che quando la vedono dicono ma chi è questa donna perché perché io devo parlare con una donna molti di loro non lo vogliono fare ma lei decide che invece vuole andare avanti io di questa ragazza che poi diventerà una donna che diventerà una madre avevo sostanzialmente i diari di quando era bambina anni 70 80 dell'ottocento poi avevo le lettere che scriveva la sorella che era in che stava studiando in collegio dove lei anche andrà in svizzera perché ovviamente minabrea gressonari waltzer avevano sempre un piede in svizzera anche perché avevano ancora delle attività li avevano ancora un negozio poi avevo le lettere d'amore in cui lei scriveva al suo innamorato e raccontando dei luoghi che io vedevo tutte le mattine e poi avevo la parte commerciale cioè arrivavano anche i documenti nel quale lei si vedeva come in prima persona gestisse gli affari chiedesse un finanziamento ai sella e così via succedono moltissime cose a questa famiglia succedono cose belle cose brutte ci sono grandi sfide imprenditoriali ci sono grandi intuizioni così come anche delle delle tragedie molto molto forti che poi sono anche all'origine del fatto che in qualche modo diventa una storia così femminile quindi chi sono i giganti sostanzialmente quelli che cercano di vedere oltre quello che le persone normali o le persone con meno intuizione meno volontà meno desiderio e ambizione non vedono